Grazie Patrizio Grazie Paolo Perini, la seconda che faceva da Paolini è Clara Marziani, la terza che faceva da me, amica mia, Sara Olivieri Chi si vuole iscrivere a una scuola di improvvisazione teatrale potrà sicuramente capire quello che sto dicendo Gli altri invece potrebbero tranquillamente cercare Improbore, accetta la proposta su internet Improbore, accetta la proposta Grazie Grazie